Canti in arabo, proteste, fumogeni e striscioni appesi alla fontana dei quattro continenti. E come se non bastasse per chiudere una manifestazione criticatissima oggi dai telespettatori nel corso di Sveglia Trieste, anche una bestemmia, pronunciata al microfono per salutare i quasi cento riuniti in piazzanità sotto il comune a protestare per il nuovo regolamento di polizia locale che tra l'altro sanziona proprio il turpilobbio. Una polemica nata inizialmente attraverso i social network con la diretta dell'assessore Giorgi che ha documentato quanto stava avvenendo in piazza. Al netto della legittimità da parte dei cittadini di protestare, ha continuato l'assessore, ciò che non piace è bloccare la piazza, renderla un luogo di tensione allontanando i bambini e concludendo chiamando in causa il creatore. Non è piaciuto poi l'addobbo degli alberi con messaggi che i giovani hanno appeso prendendo di mire il decoro della città. Degrado di piazza, il gioco di parole che ha presentato questa protesta dedicata a contestare le scelte della giunta e del sindaco delle ordinanze del regolamento urbano, ma altresì oggetto di ulteriori polemiche che a loro volta ne attireranno altre in una spirale che sembra non aver conclusione.